hi guys quest'oggi video diverso dal solito sono in game sono appena stato colpito e in attesa del dottore che non arriva mai guarderò questa persona i commenti probabilmente li lascerò a voi ah naturalmente il dual sector che sentite in lontananza ns il tizio è già stato colpito due o tre volte dalla parte sinistra dalla porta sinistra colpito e colpito da vari pallini non che il rumore ragazzi fa un po cagare sotto ma è stato colpito due o tre volte già mi avvicino un po di più nel frattempo arriva anche l'arbitro adesso inizierete a vedere il tizio dentro la casetta dove è e vedrete anche più da vicino cosa succede and let's go da qui ragazzi inizia veramente il bello perché i due avversari si avvicinano sono circa 10 15 metri lo stanno devastando dalla finestra sinistra e dalla finestra destra ma lui non mola i pallini sulla replica in faccia da tutte le parti ma non si arrende ed eccolo ancora ma tappam non li sente ragazzi non li sente and let's go e si continua e si continua praticamente arriva l'ultimo avversario ragazzi e il leone è costretto a gettare finalmente la spugna tara 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 paàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà